Manuela Cidurlo, candidata al collegio plurinominale della provincia di Varese per Fratelli d'Italia, una lunga campagna elettorale con un grande tema che ha sempre portato in prima linea, il sostegno alla natalità. Sì, è un tema a cui credo molto, è uno dei primi punti del nostro programma elettorale, riteniamo che per sostegno alla natalità non debba essere esaurito solo in una pioggia di bonus che vengono dati una tantum. Il sostegno alla natalità deve essere prolungato nel tempo, deve essere un sostegno alle famiglie che arrivi anche quando i bambini sono più grandi in termini di servizi. Un altro grande tema per noi è l'aumento dell'assegno unico con Fratelli d'Italia al Governo, aumento nei prossimi mesi del 50% dell'assegno unico. Questo perché è poco? Certo, attualmente riteniamo che il sostegno alle famiglie dato con l'assegno unico sia effettivamente basso, anzi abbiamo ragione di dire che tolte le detrazioni per i familiari a carico e gli assegni familiari sostituiti con l'assegno unico il ceto medio ci abbia perso. Nel 2022 che cosa significa sostenere delle politiche per una famiglia tradizionale? Questo tradizionale declinato nell'epoca moderna come si declina? Ma si declina nel sostenere noi quando parliamo di famiglia tradizionale sosteniamo la famiglia mamma, papà e figlio. Significa sostenerla come dicevo prima in termini di servizi che possono essere i centri estivi non che gli asilini di aperti fino all'orario di apertura di uffici e negozi perché sappiamo che attualmente tutto ciò che pubblico perlomeno nei nostri paesi, nei piccoli paesi, dà un servizio che non è sufficiente alle mamme e ai papà. Dunque per noi si traduce in termini di servizi questo sostegno alla natalità e dunque un sostegno alle famiglie come ripeto prolungato non solo per i primi anni di nascita dei bambini. E lei con un ex plurale di Fratelli d'Italia potrebbe essere da lunedì una nuova voce della provincia di Varese nel Palazzo del Potere dove si decidono. Quali sono i temi locali che si sente di poter portare all'attenzione nazionale? Beh la provincia di Varese oltre a essere una delle più produttive d'Italia è sicuramente una provincia molto vasta che ha diverse problematiche. Mi viene da pensare alle problematiche dei frontalieri nell'altra provincia nonché la tematica attuale è una tematica che mi sta molto a cuore essendo io una sommese quella dell'aeroporto di Malpensa e di tutti i servizi che si legano lo stesso. Le faccio una domanda politica visto che comunque lei fa politica da tanti anni che cosa significherebbe da lunedì se Fratelli d'Italia diventasse il primo partito in provincia di Varese e superasse per la prima volta la Lega? Come cambierebbero gli equilibri all'interno del centro-destra? Ma gli equilibri non penso che cambierebbero nel senso che noi siamo sempre stati rispettosi dei nostri alleati e continueremo ad esserlo. A somma collaboriamo con Lega Nord in Consiglio Comunale così come in tutte le zone della provincia. Gli equilibri resterebbero gli stessi. Giorgia Meloni negli ultimi anni ha avuto un'impennata nei sondaggi. Come si spiega secondo lei questo successo della vostra leadership? Secondo me è molto semplice da spiegare. Giorgia Meloni ha dimostrato coerenza, ha dimostrato di mantenere gli impegni presi con gli elettori, non si è mai inchinata a giochi di palazzo e non ha mai sostenuto governi nati all'interno delle mura del palazzo. Tanto è vero che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia invocavano le elezioni anche quando i sondaggi non dicevano che avevamo tutto questo consenso da capitalizzare. Stavamo più o meno al 3% la prima volta che Giorgia Meloni ha chiesto delle elezioni e ha chiesto che il popolo italiano avesse l'ultima parola.